Buongiorno a tutti, innanzitutto grazie per l'invito che mi dà l'occasione di parlare di un tema che mi sta particolarmente a cuore. Nel video che avete osservato sono stati trattati tanti temi, l'economia reale, la cultura, lo sport. In realtà in questo video manca una porzione importantissima della società che ci circonda, che è la pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione conta circa il 50% del prodotto interno all'ordine in Italia, però spesso se ne parla poco e quando se ne parla, se ne parla spesso in termini negativi. Non so se ricordate la campagna mediatica che fu lanciata dal ministro Brunetta allora, nel 2008, prima della riforma, avviò tutta una campagna contro i dipendenti pubblici fannulloni. Il dipendente pubblico venne etichettato come il problema dei problemi. Io ho una visione completamente diversa della pubblica amministrazione. Nelle parole chiave che si sono viste alla fine del video si parlava di innovazione, si parlava di reti, si parlava di connettere punti diversi all'interno di una rete più o meno evidente, ma si parlava anche di libertà. Io credo che una delle forme più forti e più efficaci di libertà sia quella di garantire alla maggior quantità possibile di cittadini l'accesso a una serie di servizi. Vi do qualche dato. Se voi avete un figlio che ha un'età compresa tra 0 e 3 anni, sappiate che solo il 12% di questi bambini trova posto in un asilo nido pubblico o convenzionato col pubblico. Cioè 12 bambini su 100. Il che vuol dire che tutti gli altri o non trovano posto o devono pagare in un asilo privato. Molti di noi hanno avuto accesso a prestazioni mediche. Sappiamo che l'accesso a prestazioni mediche non è facilissimo, soprattutto per quanto riguarda i tempi d'attesa. C'è poi tutto l'ambito del governo locale, degli enti locali, che è un ambito di cui non parliamo, secondo me, adeguatamente. Sapete che in Sardegna, dei 377 comuni della Sardegna, oltre l'80%, dovrebbe essere intorno all'83%, è fatto da comuni che hanno meno di 5.000 abitanti. Il 30% ha meno di 1.000 abitanti. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se osserviamo questi dati, insieme al fenomeno che si è verificato non solo in Italia, ma in qualche modo in tutti i paesi del mondo, in Italia in modo particolare, cioè quel fenomeno che porta al trasferimento di competenze e di funzioni dal centro a livello locale, accompagnato paradossalmente da una diminuzione delle risorse disponibili, vuol dire che gli enti locali sostanzialmente non sono più in grado di garantire nemmeno la normale operatività. Ci sono in sala alcuni amministratori locali, credo che potranno confermare quello che sto dicendo. Cioè vuol dire che la pubblica amministrazione non è più quell'ambito nel quale il cittadino normale può trovare delle risposte. E guardate che non è solo una questione di pressione fiscale. Sì, è vero, in Italia abbiamo una pressione fiscale intollerabile, ma il problema grosso è il divario che c'è fra la pressione fiscale che noi abbiamo e la quantità e la qualità dei servizi che riceviamo. Esistono quindi tutta una serie di analisi che noi dobbiamo fare e una delle domande che è stata posta è qual è la nostra idea del futuro. Ovviamente dobbiamo parlare dei settori produttivi, dobbiamo parlare dello sviluppo delle imprese, magari abbandonando una visione di sviluppo che ormai è desuetta. La grande industria, l'industria inquinante, tutto ciò che è successo negli anni settanta, negli anni ottanta, diciamo ora fortunatamente almeno a livello mentale lo abbiamo messo da parte, a livello fisico un po' meno. Però dobbiamo anche considerare che un elemento fondamentale affinché le stesse imprese possano svilupparsi è una pubblica amministrazione efficiente. So che sono dei temi in qualche modo triti e ritriti dei quali parliamo da vent'anni. Un'altra parola chiave nel video era il merito. Non aggiungo altro su questo perché chiaramente la pubblica amministrazione ha delle grandi carenze da questo punto di vista. Però capite bene che se non abbiamo una pubblica amministrazione in grado di garantire la normale operatività anche delle imprese, il discorso è molto complesso. Ragioniamo sul fatto che per avere delle autorizzazioni in ambito edilizio, in ambito di avvia di impresa, i tempi sono lunghissimi. Ovviamente c'è un punto che dovremmo affrontare, che chiunque governerà la Sardegna in futuro dovrà affrontare ed è il legame fra la politica e la pubblica amministrazione. Io ho una visione in qualche modo romantica e nobile della politica, cioè non mi accodo a chi vede nel politico l'equivalente di un soggetto che sfrutta una posizione. Io penso che il politico abbia un ruolo importantissimo, soprattutto in due momenti particolari. Uno è quello di capire che cosa serve ai cittadini, perché le risorse scarse poi vanno orientate laddove c'è un maggiore bisogno. E due, anche nel governo delle aziende, tenendo conto del fatto che abbiamo una macchina amministrativa grandissima, sapete che circa il 20% del totale degli impiegati in Italia lavora per la pubblica amministrazione, un pochino meno. La media europea è il 20%, alcuni paesi hanno una percentuale ancora maggiore. In Sardegna, se ho letto bene i dati, siamo circa 150.000 addetti nella pubblica amministrazione in senso lato, quindi un volume di persone enorme. Con un problema enorme, e cioè che non è stata fatta nessuna opera di adeguamento della forza pubblica, diciamo così, rispetto alle esigenze che ci sono oggi. Oggi il mondo è completamente diverso rispetto a quello che era 20 anni fa. La tecnologia, il contesto, l'ambiente, i rapporti con l'esterno, sono totalmente diversi. La pubblica amministrazione ha necessità di aggiornarsi e deve essere sempre più in grado di supportare i processi di sviluppo. Da questo punto di vista, chiaramente il ruolo della politica è un ruolo fondamentale e per questo ci servono delle persone che siano in grado di capire come funziona la pubblica amministrazione, ma soprattutto, ed è questo forse il punto più delicato, che vogliano che la pubblica amministrazione funzioni per i cittadini e a favore dei cittadini. Grazie.